Oh mio dio sono a 4.000 iscritti. Aspetta ha detto 4.000? Io ieri ho mangiato un bignè alla crema. Aspetta fra ma non stavi a 800? Hai eliminato la fanfiction. Elisa metti la musica. Scusa Elisa non avevamo una voce anche per te. Vorrei capire perché ha fatto scegliere la canzone a Elisa. Scusa Elisa.